ciao a tutti e benvenuti su azalea channel oggi siamo tornati con un nuovo video e visto la recente uscita del game pack avventura nella giungla come potete vedere anche qui sullo sfondo io l'ho preso subitissimo perché già dal trailer e tutte le informazioni che erano state rese pubbliche mi era piaciuto tantissimo e ci ha giocato un po già ieri sera e lo trovo davvero molto molto bello il nuovo scenario aggiunto che a quello di selva dorata è stupendo c'è veramente curato nei minimi dettagli e anche le avventure sono davvero molto carine e nel video di oggi volevo cominciare portandovi appunto la recensione di questo game pack iniziando con lo scoprire tutte le cose nuove aggiunte nel cas poi farò un altro video in cui vi farò vedere tutti i nuovi oggetti aggiunti nella modalità compra costruisci e poi andremo anche a vedere con altri video il gameplay vero e proprio ma adesso direi di non perderci ulteriormente in chiacchiere e ce ne andiamo subito a vedere il cas ed eccoci qua ho già preso la semina che ci farà da modella e prima di iniziare volevo scusarmi un attimo con voi se mi sentite con una voce un po strana ma sono raffreddata però ci rienevo davvero tanto a fare questo video quindi insomma spero che non dia troppo fastidio questa mia voce un po nasale comunque allora volevo iniziare facendovi vedere che oltre a capelli vestiti e tutto hanno aggiunto ben due nuove aspirazioni molto carine io già una l'ho usata per una mia famiglia personale adesso vi faccio vedere che una sta qui sotto conoscenza se voi andate ecco qua scoprite questa nuova aspirazione studiosa di archeologia il sim vuole capire l'archeologia e se la mettete vi dà come tratto bonus quello veloce ad imparare l'altra nuova aspirazione invece la trovate sotto il gruppo natura voi cliccandoci ecco qua quella nuova ovvero esploratrice della giungla il sim vuole esplorare la giungla e questa come tratto bonus vi dà invece collezionista per quanto invece riguarda i tratti non ce ne sono nuovi quindi abbiamo solo due nuove aspirazioni senza nuovi tratti per i sim poi direi a questo punto di iniziare e come al solito partiamo dall'alto guardiamoci tutti i capelli nuovi aggiunti andiamo sempre a filtrare così li troviamo subito ecco qua avventura nella giungla ben quattro nuovi tipi di capelli sempre sul medio corto direi quindi abbiamo questo con questa codina molto carina e questo colore che ha queste diciamo mesh qua ecco alla base che immagino cambi colore ecco vedete a seconda del colore di capelli cambiano il colore anche insomma delle mesh dei riflessi e tutto eccoli qua poi abbiamo questo con questa bella fascia questa è molto carina con i capelli dietro corti un po' mossi a lei sta molto bene tra l'altro e la fascia cambia colore a seconda sempre dei capelli poi abbiamo questa che è praticamente come quella che abbiamo appena visto cambia giusto la fantasia della fascia mentre questa è la tinta unita questa è un po' più colorata ecco guardate qua carina e infine questa che è come la prima che abbiamo visto ma cambiano appunto sempre queste mesh così doppio colore vedete qua la radice un colore sulle punte un altro ecco qua wow oddio che strana questa vedete molto molto arcobaleno questi capelli sì ok devo dire che questi due tagli sono carini come acconciatura però questi colori non è che mi piacciono particolarmente mentre questi due li trovo veramente molto molto carini come come capelli sì sì penso che questi li userò sicuramente poi vediamo un po' cappelli se hanno aggiunto qualcosa e mi pare di sì e infatti abbiamo due cappellini questo con il fiocchetto laterale con vari colori sempre qua tinta unita e questo che fa molto indiana jones guardate che carino con la visiera mi sembra molto adatto in effetti ad una esplorazione nella giungla perché essendoci molto sole ci sta che uno si copra così insomma la testa in questo modo poi accessori non mi sembra ce ne siano perché ieri l'ho dato un'occhiata al cassa anche io e noi infatti non c'erano trucchi mi sa di no questi non li ho guardati sinceramente adesso li guardiamo insieme no non li hanno aggiunti ok vediamo se magari hanno aggiunto no dettagli del viso no non so se forse hanno aggiunto dei nuovi tatuaggi perché mi pare di sì quindi andiamo a scoprirlo subito altrimenti me ne dimentico e questo dovrebbe essere nuovo sì eccolo qua guardate un po' che bello qua sull'avambraccio molto molto tribale in effetti ci sta con con questo pack ok poi adesso iniziamo con i vestiti parti superiori come al solito andiamo a mettere il nostro filtro e qua per le simmine hanno aggiunto davvero tante cosette carine guardate questa canottierina molto bella legata dietro al collo e scoperta con una bella colori diversi e anche in tinta unita volendo ci sta poi guardate questa giacchina quant'è carina cioè la trovo veramente adorabile bellissima che è elegantina però anche così da usare diciamo tutti i giorni no e guardate che cambiando i colori cambiano molto anche le fantasie e poi ovviamente anche a tinta unita molto carina questa questa lo userò sicuramente poi c'è questa molto floreale con questi fiorellini qui al borde guardate che carine le manichette così con tutti questi volant carina assolutamente guardate quanti bei colori sia più tenue che un po' più accesi che in effetti nella giungla è utile forse farsi riconoscere chissà per non farsi magari sparare da qualcuno che sta cacciando un qualche animale non si sa mai poi abbiamo quest'altra cannottiera con questo scollo av dietro piuttosto aderente questa mi sa che è solo tinta unita si aggiusto questa magari con il bordino un po' diverso ok molto carina questa è proprio da esploratori eccola qua con tutta la giacca piena di tasche per metterci tutte le cose che servono e anche questa ecco qua con colori abbastanza insomma tipici neutri ok mi ricorda un po' i vestiti questi che c'erano anche nel game pack gita all'aria aperta e questa invece guardate che carina con le maniche a metà un po' bombatine molto carina questa la vedo bene anche insomma da tutti i giorni non per forza da avventura nella giungla eccole qua in vari colori sempre poi guardate questa camiciola anche un po' fatta esploratrice in effetti soprattutto con questo colore così sul verde militare e poi sempre in tanti colori tinta unita e infine questa bella camiciola smanicata legata qua sulla pancia e sempre tanti colori tinta unita molto carina e direi che a parte questa che mi sembra proprio più tipica da esplorazione gli altri vestiti e le altre magliette le vedo abbastanza versatili anche diciamo nelle città nelle casette dove vino normalmente sì ma insomma sia in periferia che in centro quindi li vedo come vestiti molto sfruttabili ecco anche al di fuori dell'avventura poi andiamo al corpo intero vediamo qua quante cose nuove abbiamo solo due però molto carino guardate questo cioè bellissimo mi piace un sacco soprattutto questa connellina con tutte queste balze e guardate i colori che belli molto carini anche così a tinta unita con tutte le balze qui sotto diverse carino veramente carino questo e anche questo non è affatto male magari anche con una calza sotto ce lo vedo bene anche per appunto tutti i giorni guardate che carino un semi elegante mi piace molto molto carino poi vediamo le parti inferiori che vedo già una gonna nuova ma se non sbaglio c'erano anche pantaloni infatti ok abbiamo questa gonna che va tutta ad ampliarsi sotto devo dire che questa non mi piace particolarmente perché fa uno strano effetto cioè stretta qua e larga qui un po' troppo rigida ecco non mi piace molto però chissà magari con un giusto abbinamento sopra ci può star bene questi pantaloncini invece mi piacciono moltissimo che sono corti molto comodi con questa fascettina qua che da quel tocco in più molto carini sempre in tutti i colori poi abbiamo i pantaloni qua corti diciamo poco sopra le caviglie con questa bella cinta questi non sono male anche bei colori mi piacciono e poi questi che sono tipici proprio da escursione esplorazione perché c'è qua la borsa agganciata alla gamba per metterci tutte le cosette che ci serviranno per le esplorazioni e anche qua guardate quanti bei colori che ci sono ok poi accessori non mi sembra ne abbiano fatti nuovi ma ricontrolliamo per sicurezza oh si invece me li sono persi allora ieri quando l'ho visti per conto mio oh carino questo braccialetto molto etnico bello questo mi piace e poi invece abbiamo questi leggings tutti così colorati ci sono anche però neri tinta unita ah belli questi sotto un pantaloncino un vestitino stanno benissimo e guardate qua alla caviglia c'è questo disegno qua floreale oh è questo tutto molto colorato ah carini non mi dispiacciono affatto e poi le scarpe si c'erano un paio nuove che sono queste qua molto carine e sempre però si in effetti forse un po' più da escursione avventura vedete con lo stivaletto alto sopra la caviglia anche questi lacci legati qua davanti molto carini mi piacciono vari colori come al solito ok quindi qua mi sembra che abbiamo visto tutto per le simmine manca giusto da vedere i tipi di look così vediamo un po' se hanno aggiunto qualcuno relativo all'espansione ecco qua ben quattro wow abbiamo questo primo che si chiama signora del chaparral ok ecco vedete questa è la gonna quella che a me non piace troppo abbinata a questa cannottiera si continuo a dire che questa gonna non mi non mi dice granché va bene vediamo questo secondo look turista tropicale ha molto shallow vedete giustamente nella giungla fa caldo quindi ci sta che ci stiamo un po' svestendo ecco poi cercatrice di avventura questo è proprio classico dell'esplorazione vedete anche con il cappello le scarpe il gilet con tutte le tasche perché vi annuncio già che serviranno parecchie cose prima di avventurarci nella giungla perché se no si rischia davvero ragazzi ieri giocando con una sim della mia partita personale ha rischiato di morire infuocata in un tempio quindi già vi dico questo per cui preparatevi e poi abbiamo quest'ultimo look chic della giungla ok con questo leggings nuovo sotto questo vestitino e infatti l'accostamento vestitino leggings secondo me è molto carino ok quindi adesso andiamo invece a vedere le cose aggiunti per i simmini ecco qua ho trasformato la nostra simmina in un simmino e adesso partiamo dall'alto come abbiamo sempre fatto i capelli mi sembrano praticamente sì questo è lo stesso delle femmine quindi sono capelli unisex questo taglio anche questo l'abbiamo visto anche per le simmine e stessa cosa questo di diverso gli uomini hanno questo eccolo qua questo taglio invece corto con il ciuffo un po' sparato in alto davanti un po' particolare però penso che per qualche sim non gli stia male soprattutto magari un po' quelli giovani adolescenti giovani adulti sì sì è un taglio un po' sbarazzino dai carino poi il tatuaggio come vedete è lo stesso ovviamente sia per maschi che per femmine vediamo barba e baffi se hanno aggiunto qualcosa ma non credo no infatti cappelli immagino sì sono gli stessi identici che per le femmine accessori non c'è niente e truccovab ovviamente non c'è niente quindi adesso andiamo a vedere le parti superiori eccole qua come al solito gli uomini fanno meno cose delle donne però dai sono abbastanza carine le cose aggiunte c'è questo gilet con sotto una maglia guardate quanti colori eccolo qua poi abbiamo questo che è praticamente uguale a quello delle donne l'avevamo già visto questo che c'è questa giacchina carina con vari colori questo lo vedo anche sempre dato da tutti i giorni poi abbiamo la camicia simile a quella delle donne però non era uguale perché le donne avevano la manica più corta questo anche mi sembra una camicia abbastanza da esplorazione perché ha tutte queste tasche così sempre in vari colori poi abbiamo quest'altra camicia un po' da anche quotidiano che cambiano molto sia il colore di fondo che le fantasie davanti e poi abbiamo questa che sembra una felpetta quindi magari sta bene anche come tuta sì infatti sembra proprio il sopra di una tuta in vari colori come sempre tante fantasie poi vediamo gli abiti interi niente parti inferiori abbiamo ben quattro paglia di pantaloni aspettate che tolgo la maglietta così li vediamo meglio oh questi non sono male pantaloni lunghi sì questi mi piacciono perché per gli amici non non ci sono tanti pantaloni lunghi che non siano jeans che mi piacciono personalmente quindi questo invece non mi dispiace per cui sono contenta questi sì che sono un jeans con questa cintura così particolare sempre in vari colori poi abbiamo questi che sono invece pantaloni corti questi sono simili a quelle delle simmine che avevamo già visto prima sì sì penso che siano praticamente uguali e anche questi stesso discorso questi pantaloni più da avventuriero con la solita borsetta attaccata alla gamba poi accessori nulla e scarpe sì sono esattamente le stesse delle simmine insomma sono scarpe quindi unisex ok e per loro anche andiamo a vedere adesso i look e ne abbiamo ben no però femminile volevo maschile ok abbiamo 5 look vacanziere curioso un turista così che sembra capitato per caso nella giungla in realtà però va bene poi ho esperto di sentieri questo è proprio l'abbigliamento doc per l'esplorazione ok poi abbiamo sempre casual e in effetti sì è molto così ok poi abbiamo il tramandatore anche questo anche questo più da look quotidiano sembra più proprio da abitante di selva dorada ecco indigeno diciamo e infine immersione nello spirito locale anche questo stessa cosa un po' da abitante di selva dorada ok adesso andiamo a vedere per i bambini ma vi preannuncio già che ci sono pochissime cose perché già l'ho visto ieri sera comunque per completezza ve lo faccio vedere iniziamo con i bimbi e vediamo se hanno aggiunto nuovi capelli ma infatti mi ricordavo bene non hanno aggiunto niente per loro cappelli c'è giusto questo qua con le orecchie qui a coprirle con vari colori che sembra più un cappello invernale questo che un cappello da giungla ma va bene poi accessori nulla e vediamo un attimo per le parti superiori come vedete ci sono giusto due cose in croce c'è questo gilettino con sotto la magliettina con vari colori e fantasie e questa magliettina così insomma molto sportiva e le femmine hanno praticamente le stesse cose quindi ci sono solo queste due cosettine purtroppo corpo intero infatti nulla parti inferiori nulla accessori nulla e scarpe nulla vediamo un attimo i tipi di look c'è solo questo qua a sapore locale in cui praticamente c'è la cosa la giacchettina insomma il gilettino che avevamo visto prima vedete i pantaloni e le scarpe sono di altri pack insomma adesso vi faccio vedere anche le femmine ma troveremo praticamente le stesse identiche cose ecco qui la bimbetta capelli come vedete nulla capelli uguale identico al maschietto accessori nulla quindi andiamo a vedere i vestiti e eccoli qua esattamente gli stessi identici che abbiamo visto prima corpo intero niente neanche per le femminucce parti inferiori nulla accessori nulla scarpe nulla tipi di look sapore locale come vedete bimbi e bimbe hanno esattamente le stesse cose mi dispiace che abbiano solo due cose perché i bambini come al solito sono sempre bistrattati vabbè infatti poteva essere un po' più completo vedo il cast su questo punto ecco le cose per gli adulti sia per le simmine che per i simmini sono abbastanza per essere un game pack e lo trovate tutte abbastanza carine però per i bambini ecco potevano impegnarsi un po' di più insomma veramente solo due cosettine mi dispiace però dai complessivamente almeno per gli adulti sono soddisfatta ecco ok penso che per il cast abbiamo visto tutto per quanto riguarda i bebè non c'è nulla perché figuriamoci non c'era nulla per i bambini quindi neanche per i bebè ci sarà nulla e abbiamo visto quindi tutto il cast ci fermiamo qui quindi con il video di oggi fatemi sapere intanto se vi piacciono le cose che avete visto qua nel cast se pensate di comprare il game pack o se l'avete già comprato insomma fatemi sapere un po' le vostre opinioni a riguardo ecco che mi fa piacere sempre quando me le scrivete nei commenti quindi ci fermiamo qui con questo video e ci vediamo presto con il prossimo in cui vi porterò ad esplorare tutti i nuovi aggetti della modalità compra e costruisci a presto ciao